felice sabato mattina 10 dicembre a tutti prima di riparlare del 73 del 20 cosa vi faccio vedere questa mattina importante per capire che i numeri possono arrivare anche dopo più di 5 7 8 colpi di gioco questa mattina vi faccio vedere l'esito di nonno pino e l'esito di mirko per farvi capire che una previsione può essere proseguita benissimo anche sino ai 9 10 11 colpi allora questo è il novembre il 20 arriva a roma il 2 ritorna a roma e firenze cosa vuol dire che il 2 o il 20 su roma e firenze dovrebbe fare la sua comparsa guardate qua dove parte la previsione e dove arriva quindi 1 2 3 4 5 6 7 colpi quindi giovedì guardate quindi l'estrazione di ieri sera che era venerdì ma quella di giovedì dopo 7 colpi 7 colpi arriva il 2 su roma e quindi nonno pino si porta a casa doppio scontrino del 2 vedete guardate qua quindi quando la previsione va portata avanti va portata avanti in media dai 5 7 8 ma anche 9 colpi in questo caso come il 73 di firenze siamo in analoga situazione quindi vedete che i numeri tornano sulle ruote quindi possono anche ripetersi e quindi hanno bisogno di un loro ciclo ciclo di giro anche quindi questo è il caso di nonno pino adesso andremo a vedere quello del del di mirco guardate dopo quella signora che ha preso bene vi ricordate su firenze guardate qua cosa ha preso mirco quindi per quello vi faccio vedere queste cose perché non sempre arrivano le ambatte contate subito ma possono arrivare anche dopo qualche colpo di gioco quindi quando una previsione si ritiene importante che abbia delle quindi convergenze delle frequenze giuste quindi e poi tutte le somme tutto quello che ne conviene quindi bisogna stare attenti e cercare di portarla avanti voglio dire sto dando due previsioni una col 20 e una col 73 e questo è il caso di pino adesso vedremo quello di di mirco guardate qua eh ora vi faccio vedere questo di mirco che è veramente pazzesco guardate qua allora ha beccato il 40 l'81 l'ambata era il 40 guardate il 40 che arrivava Milano Napoli guardate poi il 40 dove è arrivato ieri sera solo su queste due ruote quindi quando vi dico che l'ambata contata è millimetrica vuol dire che quando questa tecnica va a beccare le ruote vuol dire che va a beccare proprio quelle ruote dove va a finire il numero quindi non solo arriva il 40 ma lui aveva aggiunto l'81 guardate che guardate che Ambo che ha preso quasi 700 euro di Ambo ma anche qui ci sono voluti 7-8 colpi adesso vi faccio vedere dove arrivava allora qui c'è lo schema ma per farvi vedere il tutto adesso riprendiamo i programmini della ricerca e vi faccio vedere come ha fatto eh adesso vi faccio vedere perché per quello vi dico importante seguire una previsione e portarla avanti allora 19 novembre quindi questo è un 40 seguito nei mi sembra 7-8 colpi vabbè lo andiamo a vedere allora Mirko segue il 40 5-10 ruota nazionale no 5-10 15-20 25-35 40 quindi 40 Napoli e 40 Milano giusto? qua c'è già il 40 Milano ma non vuol dire avete visto che i numeri si ripetono quindi il 40 arriva a Napoli ma giocherai anche Milano ma anche come 4-40 Ambo e Ambetto va bene allora lui gli serve il 40 il 40 lo segue guardate seguitemi bene per quello che vi dico è importante allora 1-2-3 ma il 40 su Milano Napoli non arriva 4-5-6-7 vedete 7 colpi ma il 40 su Milano Napoli ancora non arriva nel frattempo c'è un 81 vedete su Torino questo 81 di Torino se lo contate 55 60 65 70 75 80 81 anche l'81 perché lui ha fatto dei calcoli suoi personali e vi serviva un numero dell'ottantina ma guardate qui è stata anche fortuna però per dirvi che i numeri vanno a finire a ruota quindi che sia in 3 colpi che sia in 7-8 colpi i numeri arrivano e questo che vi voglio far capire che due numeri differenti da due estrazioni differenti si trovano poi comunque su ruota lascia stare che anche se non arrivava l'81 ma guardate qui allora quindi siamo a 7-8 colpi se non sbaglio aspettate va bene e sono mi sembra eccoli qua questo è il 40 ripartiamo da capo vediamo un attimino perché se no poi ci incasiniamo allora il 40 1 2 3 4 5 6 7 e 8 vedete 8 colpi di gioco il 40 arriva su tutte e due le ruote ma dato che lui gli serviva l'81 è andato a pescarlo un po' indietro di qualche colpo quindi mi sembra 3 colpi quindi 1 2 3 quindi negli 8 colpi del 40 nei 3 colpi dell'81 si ritrovano insieme lui becca l'ambo secco a ruota e non solo ma c'è anche il 40 su Napoli per quello vi dico attenzione siamo in una situazione fortissima con il 73 di Firenze adesso vedremo cosa succederà stasera ottavo colpo di gioco o nono colpo giù di lì quindi si va avanti per la stessa previsione andiamo a vederla subito che è questa quindi si porta avanti sia questa qui siamo a 8-9 colpi questa sera avete visto il caso di Mirko ragazzi rivediamo lo scontrino veramente veramente bellissimo scontrino ecco che cosa vuol dire vuol dire che quando una previsione la si porta avanti anche per 7-8-9 colpi ragazzi poi i risultati arrivano ma lascia stare l'81 ma il 40 è arrivato dopo 8 colpi quindi per quello vi dico solo su quelle due ruote Milano-Napoli quindi attenzione questo è il 73 il 73 ora vi faccio rivedere il famoso scambio fra le due ambatte quindi questo qui, queste qui siamo a 6-8-9 colpi questa sera quindi quel 37 di Bari che è arrivato anche lui su 7-8 colpi questi qua di nuovo 8-9 colpi quindi si porta avanti la previsione ben fatta come questa e poi il 20 di Genova mi raccomando quindi 73 ancora questa sera 20 di Genova in quarta e quinta posizione poi la classifica integrale del 90 che rimane sempre questa che vi faccio vedere aspettate un attimino allora l'ultimo 90 a Genova che va a Bari-Venezia quindi Venezia poi quello del Cagliari di ieri sera che ritorna a Nuova-Torino quindi sempre queste Firenze-Milano-Torino-Venezia sono sempre queste quattro ruote di riferimento ci risentiamo più tardi ragazzi questo era per quanto farvi vedere cosa succede con l'ombata contata ci risentiamo e mi raccomando moderazione nel gioco, ok? speriamo in bene per questa sera buona serata a tutti e a dopo